Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games Oggi siamo qui in vena di Antoprima, giusto Davide? Si, e se vi state chiedendo se abbiamo una sola maglietta nel nostro guardaroba Esattamente, noi in realtà registriamo i video nello stesso giorno Non si dovrebbe dire, comunque va bene Ma diciamo che è una cosa, è un retroscena che noi avremmo voluto svelare Che resterà tra noi e 10.000 persone che guardano Grazie mille anche per i 10.000 iscritti che ci ricorda Davide E che mi ricorda anche che abbiamo dei doveri a cui addempiere molto presto E noi siamo qui a parlarvi di una super anteprima Perché ci sono dei preordini in corso in queste ultime settimane Del mazzo dei Chalmers, dei posseduti del famiglio Hanno deciso di riprendere dal passato questo tema Adesso vedremo se avrà l'idea successo o no Tema che gioca molto sui sentimenti, soprattutto dei duellanti, dei fans Perché ci sono in mezzo delle artwork bellissime E quindi, cosa ha deciso di fare Konami In occasione dell'uscita del cinquantesimo Structure Deck Perché in TCG questo è lo Structure Deck numero 50 Quindi un bel numero Numero pieno Sicuramente quindi ci sono delle novità in servo Questo Structure Deck Ovvero Ci saranno un sacco di carte interessanti Di cui una di quattro illustrazioni alternative Dillo subito Per la prima volta gli Structure Deck saranno casuali Cioè non è che saranno tutti uguali Ognuno vi darà qualcosa di diverso Ci sono ben tre varianti in ogni mazzo Ovvero La prima è il tappetino deluxe Uno di cinque Chiaramente le illustrazioni saranno legate ai Charmer Ai posseduti E poi ci saranno i Token, giusto? I Token I segnamostro Che ce ne sono uno di cinque Che io devo essere Sono incuriosito perché mi ha detto Che vi illustreranno la vita quotidiana di Charmer e Famigli Io sono curiosissimo di capire cosa intendono per Eh, sarà bello scoprirlo E poi una di quattro carte Con arte variabile Diversa Con arte alternativa E in più ci saranno anche illustrazioni alternative Da quello che ho capito Se non sbaglio Sì Ok, benissimo Quindi insomma Un mazzo che sposa tranquillamente Il bello e l'utile Perché comunque Sembra che queste carte Vengano rivalutate con questo mazzo Perché abbiamo sempre saputo Non ve lo nascondiamo Che i famigli e i posseduti Non sono mai entrati nel meta In quanto essere carte con una bellissima lore Ma sempre un po' Messe in disparte Con poca sostanza Non hanno concretezza Non hanno mai avuto concretezza All'interno di O meglio Hanno avuto concretezza Solo quando contava il numero d'attacco Perché era comunque un 1854 Selle Esatto Non erano male da quel lato Ma mancavano di stabilità Di qualcosa che rotasse attorno a loro Che sia forte E le carte di questo mazzo Possiamo dire Vertono tutte Sull'ottenimento dei mostri avversari Giusto? Si Si puntano sugli attributi diversi Per rubare Cioè puntano a fare Effettivamente usare l'effetto Che avevano i famigli Che avevano i costruiti dal famiglio E che non usava quasi nessuno Però qui alla fine E questo è molto bello Perché se pensate Che tutte le carte Venomali Come cambiare idea Le strappopossesso Sono attualmente bannate Quando registriamo A oggi sono bannate Quindi In sostanza Questo rubare Prendere mostri All'avversario È sicuramente Una cosa che se potenziata Potrebbe dare fastidio Che da enormemente fastidio Durante una partita Ma potrebbe essere La base del gioco Adesso Io vi invito A mettere like al video Commentare Iscrivervi al canale E attivare la campanella Se non volete perdere Nemmeno una novità Di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte Con noi Per sicurezza Per ordinare un case Di Spirit Challenge Si Anche perché Apriremo i preordini A breve Mi raccomando Preordinate Perché Chiaramente I preordini Di questo mazzo Saranno più alti In quanto Per avere Una collezione Completa Di queste carte Dovrete prendere Minimo minimo 4-5 mazzi 5-5 Minimo 5 Poi Chiaramente Si spera di aver fortuna In quel 5 Devono essere tutti Pam 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 Esatto Però Poi ci saranno Anche le carte singole Per carità Ci saranno Comunque possibilità Di prendere E tra l'altro Che carte singole E ci saranno belle carte Io adesso lascerei Visto che ho parlato Fino ad adesso Lascerei campo Qui all'esperto Davide Che si è studiato Qua alla perfezione Tutte le carte Tutto quello Che si sa Di spoiler Però vorrei fare Una Si dobbiamo fare Una precisazione Facciamo una precisazione Questo è l'elenco Delle 40 carte Che usciranno Nell'OCG OCCG Quindi potrebbe Per chi non sa In oriente Questo In Europa Potrebbe variare Qualche carta Potrebbe A volte Rimane tutto uguale A volte Cambiano 1-2 carte In base alla lista Carte bandite limitate Per esempio In Giappone Magari esce Lo spolverino Dentro il mazzo Lo spolverino Attualmente È ancora bannato Quindi se per caso Esce lo spolverino Gli mettono Una carta Magari Gli mettono Un nei ritorno Un Turbini Gionelli Al suo posto Per capirci Però è così Hai spoilerato Una delle carte presente Azzarola Lascio parlare a lui Perché se no Continua a camminare La piazza Parla Adesso magari Intervino a spot Ci saranno Questi Awakening of the Possessed Che praticamente Sono Io da quello Che ho vedi D'orato Sono i famigli Noi abbiamo sempre Sato l'incantatore Posseduto da famiglia Ma mai famiglio E arrivano i famigli E arrivano i famigli Con un effetto Che devo ammetterlo A me personalmente Non mi fa impazzire Poi mi sottoruca Ci sta Io ve lo leggo Ve lo enuncio Se volete Sì vai Sono curiosi Puoi evocare specialmente Questa carta Della tua mano Dec Mandando al cimitero Un mostro Incantatore Incantatore Scoperto Che controlli E un mostro Terra Perché in questo caso Sto prende famiglia di terra Ci sono anche gli altri tre Cambia solo Che ha anche la terminologia Arcidemone Fra parentesi Arfin Reaper Of Nefaiusness Quindi bisogna Mandare al cimitero Un mostro Incantatore Scoperto Che controlli Un mostro Terra Scoperto Di livello 4 Inferiare Che controlli Quando questa carta Viene evocata Specialmente Con la procedura Scritta nel precedente Effetto Puoi evocare Specialmente Un mostro Di livello 4 Inferiare Del cimitero Ma i suoi effetti Sono annullati Se questa carta Viene evocata Dal terreno Al cimitero Puoi legge Una carta Spiritual Earth Art O una carta Magia Trappola Possessi Ad altrui Vecca La tua mano Puoi utilizzare Entrambi Questi effetti Di awakening Orle Possessi Una sola volta Per turno Che parliamo Di arti spirituali Dell'archet Dell'attributo Che sono già uscite Comunque In DCG Da una vita E alcune Sono anche forti Perché c'è quella Che scarta Quella che erga Non sono male Però si Devi comunque Mettere nel contesto Sì Indubbiamente Sì Diciamo che Non è male Ma secondo me Sono meglio I supporti Che hanno fatto Che hanno fatto uscire Come il teamwork Dei possessi Ah bene Il lavoro di squadra Dei posseduti Che mi sembrano Abbastanza interessanti È una trappola normale Trappola normale Evoca specialmente Mostri incantatori Con 1500 di difesa Dall'ottomano Cimitero In posizione di attacco Scoperta Posizione di difesa Coperta Quindi Ci sono due o più tributi Tra i mostri che controlli Poi distruggere Una carta scoperta Sul campo Puoi modire Questa carta Dotto cimitero Poi scegliere Come bersaglio Un'altra carta Magia Trappola Continua Possesse Dotto cimitero Mettere la scoperta Su tutto il terreno Ma quindi Mi stai dicendo Scusami Io adesso Puoi attivare Per turno Ma Tu mi stai dicendo Quindi che possiamo Giocare questa carta Anche nel bambola ombra Per dirti Se giocate la versione Con più attributi Sì Vabbè Porca miseria Bella Bella carta E utentutto È generica Quindi a parte Per l'ultima parte Che implica L'utilizzo Dei posseduti Se facciamo Un mix Un mazzo mix Che usa incantatori E posseduti Può essere davvero interessante Sì Diciamo che comunque Ha le limitazioni Che puoi o Evocare specialmente O bandire Al cimitero Però magari La fine hand phase Poi l'attivi Però entrambi gli effetti Insomma Come supporto Non mi sembra malaccio Ecco Poi io vedo Altre Altre carte Nuove Sono queste due Qui Sì beh no Questa Praticamente hanno svelato Il famiglio di terra E il famiglio di fuoco Sì Ovviamente Un'ora dopo Che pubblichiamo il video Usciranno Ovviamente 5 spoiler nuovi Come è successo Con l'ultima espansione Con Fat of Rage Assolutamente sì Quindi l'effetto del fuoco È abbastanza simile Solo che Quello del fuoco Ti permette di infliggere danni In base all'attacco Del mostro In un tuo avversario Ovviamente Perché ogni archetipo Ha ogni attributo Alla sua peculiarità Generalmente il fuoco È quello di sparare danni Esatto Poi la condizione Devocazione È esattamente La stessa Di cuore di terra Cambia Cambia appunto Come diceva Luca L'effetto Dell'attributo L'effetto finale Esatto Poi c'è questo Gran spiritual art E-chain Una grande arte spirituale Esatto Luce drago Di livello 8 3000 attacco Però Annulla il primo effetto Di mostro Del tuo avversario Che si risolva Ad ogni turno Mentre controlli Un mostro incantatore Con 1500 di difesa Dovete la tua main face Per rivela Un mostro incantatore In mano E se lo fai Aggiungi un mostro Con stesso attributo Con 1500 attacco Due centri di difesa Alto deck Alla mano E se lo fai Mischia la carta Rivellata nel mazzo Potete avere Questo effetto Di gran spiritual art E-chain Una sola volta Per turno Buona Questo è un boss Monster Praticamente Ci sono i posseduti I miei famigli E c'è anche Il drago grosso Che gli richiama E te li fa rimescolare Che gli richiama Che è un mazzo Che fa molto controllo Abbiamo visto Quindi in sostanza Rubo i mostri L'avversario Prendo il controllo Quando c'è un altro mostro Posso fare questo Cioè nel senso Bisogna avere Per giocare bene Bisogna avere almeno Mi parli capire Due mostri Con attributo diverso Sì sì È la base Ok Ovviamente essendo basato Sugli incantatori Abbiamo come terreno Il villaggio segreto Gli incantatori Ah che bello Bellissimo Non solo Perché vi metteranno Nello structure Se vi servono Anche le carte Per richiamare Le terreno Terraformare Metaverse E per difenderla C'è la barriera dimensionale Ah Dimensional Barrier È quella per i Per i tipi Di mostri Dell'extra Tranne i link Chiaramente Ah è vero È scudo No quella è un'altra cosa Non è Barriera terreno L'altra Sì ecco Barriera terreno Barriera terreno È una magia Questa è una trappola Dimensional Barrier È No mi sono confuso Perché ho detto Barrier Sì no ci sta Ci sta Vabbè tranquillo Però qui vediamo Che dalla lista Giapponese Se non cambia Dalla versione Inglese Abbiamo niente Un po' di meno Che E qui Super spoiler Evelyn Match Scontro almi pari Che non è stato Ristampato Nelle ultime uscite Diciamo È la carta mancante Del momento E Avvertimento solenne Che comunque Però questo è già più semplice Da recuperare Sì ma Essendo tornata Fra parentesi Sbloccata Può essere anche Più Più ricercata Quindi comunque Nel tempo Non ha Sì all'inizio Costava tantissimo Però adesso Insomma Non è facilissimo Da trovare Per chi vuole iniziare Queste sono buoni basi Ma non vedo solo Per fare contro Totale Avete anche Una bella Venco secca Per sicurezza E non solo Vedo anche Andata di calore Heat wave Andata di calore Senza contare Che carta È molto buona E carta Che non vedevamo Da un po' In ristampa È il libro Dell'eclissi Quindi anche questo Serve che a fare Un po' controllo Poi Comunque Da un vantaggio All'avversario Ma noi saremo Abili a colmare Questo vantaggio Magari Prendendo il controllo Dei monstri Insomma Cercando di fare Un po' Quello che si riesce E vedo anche Un mazzo contro Poteva non esserci Una hand trap C'è il Dissimulatore Di effetto Senza contare Che vedo qua Vecchie glorie Come la strega Della foresta nera E sanga Che secondo me Sono quelli Un po' più Sotto tono Un po' più Sotto tono Perché sono state Ristampate adesso In tun chaos Insomma Considerate che Tun chaos È un esclusivo A tcg Quindi Non conta Le dizioni Giapponesi Ma Attenzione Degna di nota Carta che stava anche Tornando su di prezzo Di recente La denko secca Altra carta Da antimeta Quindi questo mazzo Si impone Moltissimo Come antimeta Niente Niente male Poi continuiamo A leggere La lista Vedo un twister E attenzione Il dark blue De no more Non l'abbiamo citato Prima Ma c'è Il non più Sovrano scuro Che è una carta Che va In ogni side deck Cioè Questa carta Non può mancare Insieme a Nibiru Uscite entrambe Nei team Come carte casuali Promozionali E Qui la vediamo Inserita Ripetiamo Ve lo spieghiamo bene Non vogliamo essere Logoroici Questa è la lista OCG Quindi È una lista giapponese Qualcosa potrebbe cambiare Quella TCG Mi dice che toglieranno La Evely Match No speriamo di no Guai No speriamo di no Ma speriamo di no Ma speriamo di no Perché c'è richiesta Magari ci sarà Qualche piccola Differenza Però non Spero di no Insomma Poi ci sono tutte le arte Spirituali Uscite Allora le arte spirituali E le ammagliatrici Sono di dovere Perché insomma Rispecchiano Il senso Dello strutture La ristampa Di certi supporti Poi Se volete Avete anche Questo fantastico Santa Claus Sì che È buono dentro Si si no Non è male Si sposa Si Oddio È un kaiju da uno Ok Quindi è sempre per fare Control Ti danno un po' Tutte le cose Che di solito Vuoi fare Control Poi state Guardate L'acquisto del mazzo Io lo farei A parte per i famigli Tutte le I posseduti Lo farei principalmente Per Turbine e Germelli Dark Ruler No More Evely Match Warning Cioè io direi Che con questo Il denco secca Che attenzione Il left Veiler Il disfunatore Di effetto Esclusiva De King of Games Avete anche Una barriera Per le Terreno Sì Sì Sono a 41 Le carri Sì esatto Barriera terreno C'è anche quella Sì Ehm Poi abbiamo Beh Non abbiamo citato I fairy tale Le Ico da favola Cioè Addormentata Rella E Luna Tu poi conosci Questo tema Il tema Meglio Beh sostanzialmente Sì Beh sì sì Abbastanza Poi comunque Hanno degli effetti Abbastanza Cioè sono tutte carte Molto a tema Rispetto ai Charmer E Poi abbiamo Una carta Che è uscita Secret Che è una witchcraft Golem Aruru Altra carta Che viene Che effetto Gli viene data Un downgrade Di rarità Appunto Per essere più facile Da trovare Direi che Come anteprima C'è stata tutta Adesso A breve Sicuramente Usciranno altri Spoiler Sì Però ricordatevi Che i preordini I preordini Scadono Tra poco Quindi Ragazzi Se vi serve Il 3 agosto Per i negozi Già chiude Quindi Oggi ho ordinato adesso Se vi serve Qualcosa Sapete che i numeri Si stanno per Per chiudere Quindi Preordinate Mandateci un messaggio Anche a noi Se vi fa piacere E Beh Grazie a Davide Per l'ottima Spiegazione Riassunto Delle novità Di quello che si sapeva Della versione Giapponese Di questo mazzo Che uscirà Che lo do a breve In OCG Da noi uscirà Ad ottobre Per la precisione La lista È uscita Per l'OCG Il 30 giugno Quindi penso sia Questione di giorni Perfetto Per la precisione Dovrebbe uscire Verso fine Fine ottobre Se non sbaglio Comunque Siete ancora in tempo Per sicuramente Accapararvi le vostre copie Ricordatevi delle Differenze Che ha ogni mazzo Quindi Prendetene Quanti più possibili Quanti più vi servono Chiaramente Anche per collezione Se volete tenerne qualcuno Chiuso O comunque avere le carte Per metterle nell'album Perché sono davvero bellissime Queste carte Poi in grafica Vedremo comunque Vi faranno vedere Ci saranno le immagini Di quello che si sa Di quello che è Disponibile attualmente Sì che purtroppo È molto poco Non aspettatevi Robone Magari metteremo Qualcosa di già uscito Sì ecco esatto Perché per ora Tutte le illustrazioni nuove Sono segrete Top secret Quindi Non le hanno svelate A nessuno Beh noi Con questo Vi salutiamo Mi raccomando Continuate A supportarci Se volete Sempre video come questi Davide Saluta anche tu Devo proprio Sì Ciao Grazie per averci seguito E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Siamo talmente avanti Che abbiamo registrato Il video un po' Siamo talmente avanti Con un po' di ritardo Siamo talmente avanti Che l'e-commerce del 2018 Arrivava nel 2022 Ah vabbè Così presto Ok Allora Pronti? No Aspetta Non so Non hai stampato Non hai stampato La mail Ti avrei fatto Anche a rinviare Arrivava Questo è il montaggio Ci finisce Va bene Se il video ti è piaciuto E vuoi diventare Un bravo duellante Dacci un like Condividi E iscriviti al canale Siamo anche su Facebook The King of Games Il re dei giochi